Ehi, ma qui ci sono delle zanzare! Ne ho sentita una ronzare al mio orecchio! Ragazzi, facciamo il ban delle zanzare! Una zanzara! Due zanzare! Cinque zanzare! Dieci! Cento! Ci siamo liberati dalle zanzare, ma di ipsi proprio non possiamo farne a meno! Quale altra stramberia ci vuoi far eseguire? Un ban esotico! Divideremo il cerchio in due parti! La prima ripete questa filastrocca! Mentre la seconda parte esegue questo motivo! Abanacatura! 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 Avanacadora Ehle Avanacadora Avanacadora Avanacadora